un giovane dall'aria irra quieta stava passeggiando nell'atrio di una stazione aveva un paio di lenti azzurre e benché non fosse raffreddato si premeva di continuo il naso con un fazzoletto nella mano sinistra portava una borsa nera contenente come poi ho saputo una veste da camera di seta e un pantalone alla turca ogni tanto si affacciava sul portone d'ingresso dava un'occhiata fuori poi cavava l'orologio e lo confrontava con quello della stazione il treno sarebbe partito tra un'ora ma tant'è ci sono uomini che hanno sempre paura ad essere in ritardo dirò anche che quello non era un treno da gente che ha fretta poche le carrozze di prima classe e certamente non mai affollate da quegli agenti di cambio che dopo gli affari della mattina sono soliti rientrare per il pranzo nella loro casa di campagna quando i viaggiatori cominciarono ad affluire al portamento dei più l'occhio di un parigino avrebbe riconosciuto molti agricoltori e piccoli trafficanti del suburbio pure ogni qual volta entrava una donna e ogni qual volta si fermava all'ingresso una vettura il cuore del giovane dalle lenti colorate si gonfiava come un pallone gli tremavano le ginocchia e per poco non gli sgusciava di mano la borsa e gli occhiali non gli cadevano dal naso ove per dirla di sfuggita erano collocati alquanto per traverso ma il bello si fu quando al termine di una lunga attesa sbucò da una porta laterale e cioè dal solo punto verso cui il giovane guardasse piuttosto con non curanza una donna vestita di nero con un velo fitto sul volto e in una mano una borsetta di marocchino scuro contenente come poi ho scoperto una stupenda veste da camera e due pianelle di raso celeste la donna e il giovane si diressero l'uno verso l'altro con sbirciate a destra e a sinistra senza mai guardarsi di fronte incontratisi si presero per mano e stettero per qualche minuto senza dir nulla trafelati e palpitanti in preda ad una di quelle struggenti commozioni per le quali io che vi parlo darei cent'anni della vita di un filosofo quando ripresero fiato leone disse la fanciulla mi ero scordato di notare che la donna era giovane e graziosa leone che gioia mai vi avrei ravvisato con quelle lenti azzurre che gioia ripete leone mai vi avrei riconosciuta con quel velo nero che felicità riprese lei occupiamo subito i posti e visto mai che il treno partisse senza di noi e qui gli strinse forte il braccio non ho destato il minimo sospetto in questo preciso momento mi trovo con clare e col marito e siamo tutte e tre diretti alla loro casa di campagna dove domani la lascerò definitivamente invece soggiunse ridendo con la frontechina è già partita da un'ora domani dopo quest'ultima serata passata con lei gli strinse ancora il braccio domani prima di mezzogiorno mi accompagnerà alla stazione dove troverò ad attendermi orsola che ho già spedita avanti dalla zia tutto calcolato prendiamo i biglietti non è possibile che ci scoprano e se ci chiedono il nome dell'albergo mi sono già scordata il signore e la signora duru ah no duru non mi piace vi era nella nostra pensione un calzolaio che si chiamava così dumont allora dumont ottimamente non ci chiederà nulla nessuno la campana sonò la porta della sala d'aspetto si aprì e la giovane signora sempre meticolosamente velata saltò in una diligenza con il giovane compagno lo squillo della campana lì sono una seconda volta la portiera dello scompartimento si chiuse siamo soli gridarono felici ma quasi nello stesso momento un signore sulla cinquantina dall'aria seria e annoiata nell'abito nero entrò in carrozza e si accomodò in un angolo la locomotiva fischiò il treno si mosse la giovane coppia ritiratasi quanto più lontano possibile da quell'intruso cominciò a chiacchierare sotto voce e in inglese per maggiore prudenza signore disse l'altro viaggiatore nella stessa lingua ma con accento britannico assai più spiccato se avete qualche segreto da dirvi farete bene a non dirvelo un inglese in mia presenza sono inglese dolente di incomodarvi ma nell'altro scompartimento c'era un uomo solo e ho per principio di non viaggiare mai con un uomo solo costui poi aveva una faccia da giuda e questo forse avrebbe potuto tentarlo indicò una borsa da viaggio che aveva buttato sul cuscino di fronte ad ogni modo se non dormirò leggerò infatti cercò lealmente di dormire aprì la borsa ne cavò una comoda berretta e se la calò in testa e tenne gli occhi chiusi per alcuni minuti poi li rieprì con un gesto di impazienza frugò ancora nella valigetta ne cavò un paio d'occhiali e un volume greco e finalmente cominciò a leggere con molta attenzione per trovare il libro dovette rivistare tra molti oggetti ficcati là dentro alla rinfusa tra l'altro agguantò nel fondo della valigia un mazzo rispettabile di biglietti della banca d'inghilterra lo depose sulla panchetta davanti e prima di riporlo nuovamente lo mostrò al giovane chiedendogli se sarebbe stato possibile cambiare banconote a n probabilmente siamo sulla strada d'inghilterra n era il luogo dove la giovane coppia era diretta ad n vi è un alberghetto abbastanza discreto frequentato soltanto il sabato sera le camere secondo quanto si assicura son buone e in vero padrone personale non sono così lontani da parigi da cedere al malvezzo della provincia il giovane che ho già chiamato leone aveva già compiuto qualche giorno prima una ricognizione nell'albergo senza lenti azzurre e sulla fede di quanto ne aveva riferito sembrava che anche all'amica fosse venuto il desiderio di vederlo del resto quest'ultimo era adesso in tale disposizione di spirito che le stesse mura di una prigione sarebbero apparse come un soggiorno incantevole a patto di starvi rinchiusa con leone il treno filava sempre l'inglese leggeva il suo greco senza volgere il capo verso i compagni di viaggio e questi discorrevano così piano che solo due amanti erano capaci di intendersi non stupirò forse il lettore dicendo che quelli erano amanti in tutta la forza del termine non solo ma vera questo di riprovevole che non erano sposati e che a ciò anzi non mancavano serie ragioni di impedimento arrivarono ad enne l'inglese scese per primo mentre leone aiutava l'amica ad uscire dalla dirigenza senza far veder le gambe un uomo dallo scompartimento accanto saltò sul marciapiede era pallido in viso direi quasi giallo gli occhi infossati e venati di sangue la barba mal rasa un segno quest'ultimo che rivela spesso i grandi delinquenti i suoi panni erano puliti ma ragnati all'estremo il pastrano già nero e adesso grigio di dietro e ai gomiti era bottonato sino al mento probabilmente per nascondere un panciotto anche più liso costui si avvicinò all'inglese rivolgendosi in tono umilissimo zio lasciami andare birbante esclamò l'inglese con gli occhi grigi accesi dall'ira e fece un passo per uscire dalla stazione non mi lasciare alla disperazione riprese quell'altro con voce lamentevole al tempo stesso quasi minacciosa siate tanto cortese da dare un'occhiata alla mia valigia disse il vecchio inglese a leone gettandogli ai piedi la borsa da viaggio poi preso per un braccio l'uomo che lo aveva avvicinato lo accompagnò o per essere esatti lo spinse in un canto dove sperava che nessuno lo udisse e dopo alcune frasi dette con aria assai concitata si cavò di tasca un cartocetto che spiegazzò e mise in mano a colui che lo aveva chiamato zio l'altro prese il cartoccio senza ringraziare e quasi subito si allontanò e scomparve ad enne vi è soltanto un albergo e dunque non ci si deve stupire se di via pochi minuti tutti i personaggi di questa veridica storia vi si ritrovano in franza ogni viaggiatore che si presenti al braccio di una donna ben messa è sicuro di avere la migliore stanza in tutti gli alberghi e perciò non si discuta che noi siamo la nazione più garbata di europa ma se la camera che diedero a leone era la migliore sarebbe avventato concludere che fosse ottima vi era un gran letto di noce con certe tendine di tela di persia su cui si vedeva stampata in viola la magica favola di piramo e tisbe i parati a colori rappresentavano la veduta di napoli animatissima di personaggi solo che da non so quali viaggiatori ozioci o indiscreti erano stati aggiunti baffi e pipe a tutte le figure maschili e femminili vergate a matita molte sciocchezza in prosa e in rima si leggevano inoltre in cielo e in mare tutto questo serviva di sfondo a un certo numero di stampe luigi filippo che presta giuramento di fedeltà alla corte costituzionale del 1830 il primo incontro di giulia e di san prè l'attesa della felicità e i rimpianti secondo dubaf la camera che abbiamo descritto era niente meno che la camera azzurra così denominata dalle due poltrone ai due lati del camino le quali erano di velluto di utrecht di quella tinta sebbene già da molti anni rivestite con fodere di percallina grisa a galloni amaranto mentre le cameriere dell'albergo assediavano con le loro premure la nuova arrivata leone cui l'amore non toglieva un certo senso pratico passava in cucina a ordinare il pranzo gli ci voldero tutta la sua eloquenza e qualche mezzo di corruzione per strappare al cuoco la promessa di una colazione in camera ma non fu poco il suo terrore quando seppe che nella grande sala da pranzo attigua alla camera azzurra i signori ufficiali del terzo usseri in procinto di dare il cambio adenne ai signori ufficiali del terzo cacciatori si sarebbero quella sera stessa riuniti con questi ultimi per una cena d'addio delle più cordiali l'oste giurò e spergurò che salvo l'allegria naturale di tutti i militari francesi i signori usseri e i signori cacciatori erano noti in tutta la città per la posatezza e la mansuetudine dei loro modi inoltre la loro vicinanza non avrebbe arrecato il minimo fastidio alla signora i signori ufficiali essendo soliti alzarsi da tavola prima della mezzanotte leone dopo questa assicurazione che non lo lasciava poco perplesso si dirasse verso la camera azzurra nel passare vide che l'inglese occupava la stanza vicina l'uscia era aperto l'inglese seduto a un tavolino davanti a un bicchiere e una bottiglia guardava il soffitto con molta attenzione come se stesse contando le mosche che vi passeggiavano che importano i vicini pensò leone l'inglese sarà presto ubriaco e gli usseri se ne andranno prima della mezzanotte appena entrato nella camera azzurra si accertò innanzitutto che le porte di comunicazione con le stanze vicine fossero ben chiuse e munite di chiavistelli dalla parte dell'inglese vi era una doppia porta e il muro era di un certo spessore dalla parte degli usseri la parete era più sottile ma la porta era chiusa a chiave e a catenaccio tutto considerato sarebbe stata contro la curiosità del prossimo una difesa ben più efficace delle tendine di una carrozza ora quanta gente non si crede isolata dal mondo in una semplice vettura certo è che la più fervida immaginazione è incapace di raffigurarsi una felicità più completa di quella di due giovani amanti i quali dopo una lunga attesa riescano a trovarsi soli lontano dai gelosi e dagli indiscreti liberi di narrarsi tutte le ansie passate e di godersi finalmente le delizie di una perfetta unione purtroppo il diavolo trova sempre in mezzo di versare la sua goccia di assenzio nel calice delle nostre gioie johnson ha scritto ma non era il primo poiché lo ripeteva da un autore greco che nessuno può dire a se stesso oggi sarò felice questa grande verità nota già in tempi remotissimi ai maggiori filosofi è ancora sconosciuta a non pochi mortali e specie alla maggior parte degli innamorati nel cenar soli nella camera azzurra con qualche pietanzuccia sottratta al banchetto dei cacciatori e degli usseri leone e l'amica ebbero a patire più che non si dica della conversazione alla quale i detti signori si abbandonavano nella stanza accanto erano discorsi del tutto estranei alla tattica e alla strategia e io mi guarderò bene dal riferire un vero florilegio di storielle strampalate per lo più boccaccesche interrotte da risate fragorose cui pure ai nostri amanti riusciva talora difficile non associarsi l'amica di leone non si dava propriamente le alie di una madonnina infilzata ma certe cose non si ascoltano sempre volentieri nemmeno quando ci si trova tu per tu con l'uomo che si ama la faccenda si faceva sempre più scabrosa e nel punto che ai signori ufficiali stavano per essere portati il dolce e la frutta leone pensò bene di scendere per pregar l'oste di andare a far presente a quei signori che nella stanza accanto c'era una donna che non si sentiva bene e che pertanto si sperava dalla loro cortesia che volessero fare un po' meno chiasso il padrone come succede nei pranzi d'arma era completamente stordito e non sapeva a chi dar retta mentre leone gli affidava il suo messaggio per gli ufficiali un inserviente gli chiedeva lo spumante per gli usseri e una cameriera una bottiglia di porto per l'inglese io pur detto che non ne avevamo aggiunse costei sei una stupida non c'è vino che io non abbia nella mia cantina adesso glielo trovo io il porto dammi la bottiglia del ratafià una bottiglia di vino da 15 e un caraffone d'acqua vite fabbricato il vino in 4 e 4 8 l'oste andò in sala a portare l'incombenza di leone sulle prime si scatenò un putiferio poi una voce da baritono che dominava tutte le altre chiese che specie di donna fosse la vicina si fece quasi silenzio mentre l'oste rispondeva ma signori miei non saprei che dire è molto graziosa e molto timida maria giovanna dice che ha la fede al dito potrebbe anche darsi che sia una sposina venuta qui in viaggetto di nozze come talvolta succede una sposina gridarono a una voce 40 ufficiali bisogna che venga a brindar con noi berremo alla sua salute insegneremo al marito i suoi doveri coniugali si udì un gran rumor di sproni e i nostri amanti rabbrividirono pensando che sulla stanza incombesse la minaccia di un assalto se non che all'improvviso una voce fermò tutto quel patassio chi parlava era senza dubbio un superiore rimproverò agli ufficiali la loro scostumatezza intimando loro di sedersi e di tener discorsi più onesti senza alzar la voce poi aggiunse qualcos'altro ma in tono troppo basso per essere udito dalla camera azzurra le ultime parole furono accolte con deferenza seppure con una certa ilarità raffrenata da quel momento vi fu nella sala degli ufficiali un relativo silenzio e i nostri amanti lo dato in cuor loro il salutare imperio della disciplina cominciarono a trattarsi con maggior confidenza è vero che dopo tutto quel frasbuono un po di tempo era necessario per ritrovare la dolce commozione che l'inquietudine la seccaggine del viaggio e soprattutto la chiassosa allegria dei vicini aveva così vivamente perturbato ma a quell'età la faccenda non è poi tanto difficile e i nostri due colombi dimenticarono presto il lato spiacevone della loro movimentata spedizione per non pensar più che ai suoi risultati più tangibili si credevano in pace con gli usseri ahimè non era che una tregua nel momento che meno ci si aspettavano quando erano ormai a mille miglia da questo mondo sublunare eccoti ventiquattro trombe con alcuni tromboni di rinforzo a suonare il noto motivo dei soldati francesi la vittoria è nostra ditemi voi il mezzo di resistere a quella tempesta i poveri amanti erano proprio da compatire sì ma non tanto perché finalmente gli ufficiali uscirono dalla sala da pranzo con vivo strepito di sciamole e di speroni sfilarono davanti a luce della camera azzurra gridando uno dopo l'altro buonasera signora sposina cioè sbaglio l'inglese uscì nel corridoio e gridò cameriere un'altra bottiglia dello stesso porto nell'albergo di enne era tornata la serenità la notte era dolce la luna al colmo del suo splendore da tempo immemorabile gli amanti provano gioia a guardare il nostro satellite leone e l'amica aprirono la finestra che dava su un giardinetto e aspirarono con volutà l'aria fresca profumata della pergoletta di clematidi tuttavia non vi si trappennero a lungo un uomo passeggiava nel giardino a testa e china con le braccia concerte e un sigaro in bocca a leone parve di riconoscere il nipote dell'inglese così amante del buon vino di porto odio i particolari inutili ed altronde non mi credo affatto in obbligo di narrare ciò che il lettore può facilmente intuire e tantomeno di riferire per filo e per segno ciò che avvenne quella notte nell'albergo di enne dirò dunque che la candela che ardeva sul caminetto senza fuoco della camera azzurra era già quasi interamente consumata quando nella stanza dell'inglese già silenziosa si udì un rumore strano come il tonfo di un corpo pesante che venga a cadere seguì una specie di scricchiolio non meno strano di quel tonfo e subito dopo un grido soffocato e poche parole indistinte che potevano sembrare un'imprecazione forse che i nostri due amici si erano svegliati di soprassalto comunque tanto su lui che su lei quel rumore che non riuscivano a spiegarsi aveva prodotto un'impressione quasi sinistra è il nostro inglese che sogna fece leone sforzandoci di sorridere ma voleva soltanto rassicurare la donna e involontariamente era brividì due o tre minuti dopo una porta si aprì nel corridoio casualmente da quanto sembrò poi la porta pian piano si richiuse e avvertirono un passo lento e malsicuro che secondo ogni apparenza cercava di non farsi sentire maledetto albergo imprecò leone ah è il paradiso rispose la giovane signora lasciando ricader la testa sulle spalle di leone sto morendo dal sonno sospirò e quasi subito si riaddormentò un illustre moralista ha detto che gli uomini non sono mai cerlieri quando non hanno più nulla da chiedere perciò non desterà maraviglia se leone non tentò affatto di riallacciare la conversazione o di disquisire sui rumori dell'albergo di n ma questo non toglie che al suo malgrado egli ne fosse preoccupato e che nella sua immaginazione vi riconnettesse molte circostanze a cui in una diversa disposizione di mente non avrebbe prestato la minima attenzione il ceffo sinistro del nipote dell'inglese gli tornava alla memoria e si ricordava che lo sguardo di costui era carico di odio benché parlasse allo zio con voce umile senza dubbio perché gli chiedeva denaro che cosa sarebbe stato più agevole ad un uomo ancora giovane e robusto e per giunta in preda alla disperazione dell'arrampicarsi dal giardino alla finestra della camera accanto del resto alloggiava nello stesso albergo poiché passeggiava nel giardino forse voglio dire con una certa probabilità anzi certissimamente sapeva che la borsa nera dello zio conteneva un grosso fascio di biglietti di banca e quel tonfo sordo come una mazzata su una testa calva quel grido soffocato quell'orribile bestemmia e quei passi dopo quel nipote aveva la grinta di un assassino ma chi assassina in un albergo pieno di ufficiali l'inglese poi da uomo prudente si era certamente chiuso a catenaccio specie sapendo che il mariguolo gli ronzava attorno diffidava di lui poiché non lo aveva voluto avvicinare con la borsa in mano perché quei pensieri odiosi quando si è tanto felici questo ed altro leone andava rimuginando in se stesso e intanto combattuto da tutti quei pensieri che io mi asterrò dall'analizzare più minutamente anche perché gli si presentavano confusi come un brutto sogno guardava fisso distinto la porta di comunicazione tra la camera azzurra e la stanza dell'inglese in francia le porte chiudono male tra questa e il pavimento correva una striscia vuota di almeno due centimetri ad un tratto in quell'intervallo illuminato appena dai riflessi del pavimento si vide un che di nerastro appiattito e simile a una lama di coltello infatti l'orlo e raggi della candela presentava un filo sottile brillantissimo era una cosa che si muoveva lentamente verso una delle babbucce di raso celeste indiscretamente scaraventata vicino alla porta forse un insetto un millepiedi no non è un insetto è una cosa di forma indistinta due o tre strisce brune ognuna con il suo filo di luce sull'orlo sono penetrate nella stanza l'inclinazione del pavimento accelera la loro corsa si avvicinano rapidamente sfiorano la babbuccia non vi sono più dubbi si tratta di un liquido e quel liquido adesso alla luce della candela se ne distingue perfettamente il colore è sangue e mentre leone immobile guarda in orridito quei rivoletti spaventosi la giovana signora se la dorme tuttora pacificamente e il suo respiro è uguale riscalda il collo e la spalla dell'amante la premura di leone nell'ordinare subito la cena al suo arrivo nell'albergo di enne prova abbastanza chiaramente che il giovane aveva la testa a posto con una bella intelligenza capace di prevedere le cose in questa nuova occorrenza non smentì quelle doti del carattere che già gli abbiamo riconosciuto non si mosse e concentrò tutta la forza della sua mente nella ricerca della via migliore per sottrarsi al grave infortunio che lo minacciava sono certo che la maggior parte dei miei lettori e più ancora delle mie elettrici urtati suppongo nei loro sentimenti eroici riproveranno in questo caso la condotta dell'inerte leone egli mi diranno ci sarebbe dovuto precipitare in camera dell'inglese avrebbe dovuto arrestare l'assassino o perlomeno attaccarsi al campanello e dare l'allarme a tutto il personale dell'albergo a tutto questo risponderò innanzitutto col far presente che negli alberghi francesi i campanelli delle stanze sono oggetti puramente esornativi e che il cordone raramente corrisponde ad un apparecchio metallico molto rispettosamente ma con la dovuta fermezza aggiungerò poi che se non sta bene lasciar morire un inglese a due passi dal luogo dove ci si trova non sarebbe un'azione lodevole il sacrificargli una donna che dorme appoggiata alla vostra spalla che sarebbe mai avvenuto se leone avesse fatto un baccano da destare tutto l'albergo i gendarmi il procuratore imperiale il cancelliere del procuratore si sarebbero subito piombati tra capo e collo e prima ancora di informarsi di quello che poteva aver visto o sentito quei signori sono per abito professionale tanto curiosi che avrebbero incominciato col chiedere come vi chiamate avete documenti e la signora che cosa stavate facendo insieme nella camera azzurra dovrete comparire in corte d'assise per dire che il giorno tale di tal mese e a tal ora della notte foste testimoni di tal fatto ora fu proprio l'idea di quel procuratore imperiale e di quei signori della corte ad affacciarsi per prima alla mente di leone vi sono talvolta nella vita casi di coscienza di non facile risoluzione ditemelo voi sarà meglio lasciare che scannino un viaggiatore sconosciuto o disonorare perdere la donna amata è sgradevole doversi porre un tale problema ma io darò tutto il tempo di scegliere tra dieci soluzioni di suo genio al più sagace dei miei lettori leone fece dunque ciò che molti di noi avrebbero forse fatto nei suoi panni non si mosse rimace un bel pezzo come incantato a guardare la babbuccetta celeste e il rigagnolino rosso che la lambiva mentre le tempie gli si inumidivano di un sudore freddo e il cuore gli batteva nel petto sino a farlo scoppiare era assillato da un turbinio di idee ed immagini balzane e una voce interiore gli gridava ad ogni momento tra un'ora tutto si saprà e la colpa è tua tuttavia anche limitandosi a ripetere che ci sono venuto a fare in questa galera si finisce sempre per scegliere qualche raggio di speranza leone pensò se riusciamo ad allontanarsi da questo maledetto albergo prima che scoprano quello che è successo nella stanza accanto forse gliela faremo a far perdere le nostre tracce qui nessuno ci conosce non mi hanno visto che con le lenti azzurre e la e l'hanno vista soltanto velata siamo a due passi da una stazione e basta un'ora di viaggio per portarci a una buona distanza da n dove dire che per architettare la sua scappatella aveva studiato a fondo l'orario dei treni così si ricordò che alle otto sarebbe passato un treno per parigi bastava prender quello per scomparire poco dopo nella città immensa là dove riescono a nascondersi tanti colpevoli chi mai vi avrebbe scoperto due innocenti purché non entrassero in camera dell'inglese prima delle otto questo era il problema convintissimo di non avere altra via di scampo cercò disperatamente di scuotersi dal torpore che lo aveva inchiodato lì da ormai troppo tempo dalla prima mossa che fece la giovane compagna si svegliò e lo baciò all'impazzata al contatto del suo volto gelato diede tuttavia un grido sommesso che avete sin pensieri lei avete la fronte come di marmo non è nulla rispose una voce malsicura ho sentito un rumore nella stanza accanto si svincolò dalle sue braccia e per prima cosa allontanò la babbuccia azzurra poi trascinò una poltrona davanti alla porta di mezzo di modo a tenere celato all'amica il liquido orrendo che adesso cessato di scorrere formava una chiazza di una certa ampiezza sul pavimento fatto questo dischiuse l'uscio che dava sul corridoio e rimase in ascolto osò anzi avvicinarsi alla porta dell'inglese e la trovò serrata nell'albergo cominciava a esserci un certo movimento era l'alba gli staglieri laggiù nel cortile stavano già governando i cavalli al secondo piano si sentiva scendere un ufficiale con un gagliardo strepito di speroni andava a presiedere quell'interessante operazione assai più gradita ai cavalli che ai cristiani che in linguaggio tecnico viene detta brusca striglia leone rientrò nella camera azzurra e con tutte le cautele che l'amore può inventare con gran rinforzo di circonlocuzioni ed eufemismi espose all'amica la situazione in cui si trovava c'era pericolo a restare pericolo a partire troppo in fretta e pericolo specialmente ad aspettare in albergo che si venisse a scoprire la catastrofe della stanza attigua non occorre dire lo spavento cagionato da una simile confidenza le lacrime che seguirono le proposte insensate ora di lui e ora di lei quante volte i due poveretti non si gettarono nelle braccia l'uno dell'altro ripetendo a vicenda perdonami perdonami ognuno di loro si credeva il più colpevole si promisero reciprocamente di morire insieme poiché la giovane signora non dubitava che la giustizia li avrebbe ritenuti il re dell'assassinio dell'inglese e siccome non erano troppo sicuri di potersi ancora baciar sul patibolo si baciavano ora a per di fiato irrorandosi a gara di pianto finalmente dopo chissà quanti spropositi e quante parole dolci e strazianti tra un diluvio di baci si convinsero che il piano meditato da leone e cioè la partenza con il treno delle otto era realmente il solo possibile e l'unico che convenisse seguire ma dovevano ancora passare due ore di ansie mortali ad ogni passo del corridoio erano colti da un brivido in tutta la persona ad ogni scricchio di stivali credevano che stesse già entrando il procuratore imperiale il loro modesto bagaglio fu pronto in un batter d'occhio la giovane signora voleva bruciar nel camino la babbuccia celeste la leone la raccolse e asciugatola con lo scendiletto la baciò e se la mise in tasca si accorse con grato stupore che odorava di vaniglia la sua amica usava lo stesso profumo dell'imperatrice eugenia nell'albergo erano già tutti alzati si udivano i camerieri che ridevano le cameriere che cantavano gli attendenti che spazzolavano le giubbe degli ufficiali erano appena suonate le sette leone tentò di costringere l'amica a prendere una tazza di caffè latte ma quella dichiarò di sentirsi una tale stretta alla gola e sarebbe morta solo provar di trangugiare qualcosa leone armato più che mai delle sue lenti azzurre scese per pagare il conto il padrone gli chiese scusa scusa per il rumore della notte che non riusciva a spiegarsi perché i signori ufficiali erano sempre tanto quieti leone assicurò di non aver inteso nulla e di avere ottimamente dormito ad ogni modo aggiunse il padrone il vostro vicino dell'altra stanza credo non vi abbia incomodati non si sente molto costui scommetto che dorme ancora tra due guanciali leone si appoggiò forte al banco per non cadere e la sua giovane amica che aveva voluto seguirlo gli si attaccò disperatamente al braccio stringendosi bene il velo sugli occhi è un milord continuò l'oste implacabile gli occorre sempre quanto c'è di meglio è un uomo come si deve ma non tutti gli inglesi gli somigliano ne abbiamo un altro qui spilorcissimo tutto gli sembra troppo caro la camera il pranzo tanto ha fatto che mi ha rifilato la sua carta moneta per 125 franchi un biglietto della banca d'inghilterra da 5 sterline purché sia buono almeno guardate signore dovete intendere voi perché vi ho sentito parlare inglese con la signora che ve ne pare nel dir questo mostrava leone una banconota da 5 sterline in un angolo si vedeva una piccola macchia rossa che a leone non lasciò dubbi credo che sia buonissimo rispose con voce strozzata o prendetevela pure con comodo riprese l'ospite il treno non passa che alle 8 e porta sempre ritardo favorite sedervi signora sembrate stanca in quella entrò un enorme fantesca presto disse acqua calda per il tè del milord datemi anche una spugna ha rotto la bottiglia e la camera è tutta inondata a quelle parole leone si lasciò cadere su una sedia lo stesso fece la sua compagna riprese una voglia matta di ridere e si trattennero a stento la giovane strinse tutta felice la mano di leone ma fretta davvero non ce n'è disse quest'ultimo al padrone dell'albergo partiremo con il treno delle due mi raccomando però a mezzogiorno un buon plansetto a mezzogiorno un buon plansetto